Musica Buongiorno ragazzi Anche oggi siamo in cucina con Inga come ogni martedì Soltanto che oggi c'è più gente Ci sono persone che cucinano, persone che aiutano, persone che guardano E poi soprattutto persone che suonano e ci fanno un buon umore Non ci vuole dire la ricetta per adesso? No, sorpresa Poi c'è la Cristina che fa da aiuto cuoco per adesso Poi farà la pasta col sugo Da questo lato molto molto impegnata C'è la nostra Angela che fa le costalette di maniare e poi qui dentro Brava Angela Angela Pietro Brava Pietro Pino Claudio Claudio Pino 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 Pino